Con gli ultimi decreti legge il governo ha introdotto una serie di nuove regole che entrano in vigore a scaglioni nei prossimi giorni e settimane. Si va dall'obbligo vaccinale per gli over 50 a quello del super green pass o green pass base. Vediamo il calendario nei dettagli. Nelle prossime settimane entreranno in vigore, un po' alla volta, le nuove regole per contrastare la pandemia di Covid. Negli ultimi 20 giorni il governo ha varato tre diversi decreti, con alcune misure che sono diventate effettive da subito, mentre altre sono state programmate durante il mese di gennaio. Parliamo dell'obbligo vaccinale contro il Covid per gli over 50, ma anche dell'estensione del super green pass per molta attività e, allo stesso tempo, dell'utilizzo del green pass base per entrare in alcuni luoghi. Vediamo insieme il calendario dell'entrata in vigore delle nuove regole, andando per ordine. Già da oggi, 6 gennaio, scatta l'obbligo vaccinale per chiunque abbia più di 50 anni. La misura, infatti, è effettiva da subito. Per vaccinarsi che tempo fino al primo febbraio, da quel momento in poi chi violerà la norma riceverà una multa di 100 euro. Tra i lavoratori over 50 che anche l'obbligo di esibire il super green pass, pena la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Questa regola, però, diventa effettiva dal 15 di febbraio, in modo da dare tempo a tutti gli ultracinquantenni ancora indecisi di vaccinarsi. Entra anche in vigore l'obbligo vaccinale, a prescindere dall'età, per il personale universitario, che così viene equiparato a quello scolastico.